Ciao e bentornato, con questo video iniziamo la corposa parte del corso dedicata alla multiesposizione, quindi la fusione di più immagini per trovare la corretta gamma dinamica all'interno di una scena. Un concetto veramente importante nella fotografia di paesaggio perché ci permette di superare i limiti tecnici che qualunque apparecchiatura in commercio presenta. Come ti ho già detto all'inizio del corso il sensore della nostra fotocamera percepisce una gamma dinamica molto minore rispetto al nostro occhio, come puoi vedere da questa rappresentazione è praticamente la metà, quindi l'occhio umano percepisce 24 stop di luminosità mentre la gamma dinamica di una fotocamera comunque di buon livello è di circa 12 stop, quindi praticamente il doppio tutto questo si traduce in una minore quantità di dettagli che vengono impressi sul sensore e quindi vengono visti poi sulla fotografia rispetto a quello che noi andiamo a percepire sulla scena. Quindi il rischio quando si parla di fotografia e del paesaggio è che la delusione sia proprio dietro l'angolo che comunque la nostra fotografia non rispecchi quello che abbiamo visto, non renda giustizia al panorama che abbiamo visto. Per avviare a questo problema abbiamo detto che c'è la multiesposizione. Cosa consisteremo in questo fenomeno essenzialmente nel scattare diverse fotografie con una diversa esposizione in modo tale da avere diversi piani focali, diversi elementi, soggetti della scena con la giusta esposizione in almeno uno scatto. Generalmente si effettua almeno uno scatto sottoesposto, per esempio in questa fotografia lo scatto è chiaramente sottoesposto e serve a valorizzare il cielo, a recuperare tutti i dettagli che ci sono nel cielo. Poi uno scatto correttamente esposto per recuperare i mezzi toni e alla fine uno scatto sovraesposto per recuperare i dettagli delle ombre. Poi questi scatti vengono fusi con diverse tecniche per ottenere una fotografia come questa in cui vedi il risultato è molto simile ad aver applicato un filtro gnd ma in questo caso c'era solo un filtro gnd montato e l'ampliamento della gamma dinamica è dato appunto da una multiesposizione e dalla successiva fusione di queste immagini attraverso i programmi di fotoritocco. Ormai in tutte le fotocamere esiste una funzione dedicata proprio a questo fenomeno alla multiesposizione che viene chiamata bracketing. Una funzione molto semplice da usare basta utilizzare il manuale della tua fotocamera sono giuste due o tre impostazioni, una funzione che permette di scattare diverse fotografie a intervalli regolari che possono essere di una frazione di stop come un terzo, un mezzo o di uno stop. Generalmente il numero di scatti dei bracketing dipende dal modello di fotocamera, di solito tutte hanno almeno due o tre scatti, alcuni modelli hanno anche cinque e altri arrivano a sette o dieci, dipende essenzialmente da quanto è evoluta la tua fotocamera. Oltre a scegliere il numero di scatti il bracketing ti permette anche di scegliere l'intervallo che deve passare tra uno scatto e l'altro e come variare l'esposizione all'interno della sequenza. Come dovresti sapere per variare l'esposizione si può agire generalmente su apertura del diaframma, tempo di esposizione e ISO. Quindi si possono impostare questi parametri e fare il bracketing su questi parametri oltre che sul bilanciamento del bianco, poi dipende dalla fotocamera che stai utilizzando. Però cambiando l'apertura del diaframma andiamo a girare anche sulla profondità di campo, quindi andremo a fondere fotografie con diversa esposizione e diversa profondità di campo. Mentre cambiando i valori delle ISO andremo ad aumentare il rumore digitale, una cosa che assolutamente non vogliamo, infatti generalmente le ISO vengono usate come gradino di emergenza, bisogna sempre variare generalmente il tempo e l'apertura del diaframma. Quindi ti consiglio quando fai un bracketing di usare essenzialmente il tempo di esposizione, quindi fai il bracketing cambiando essenzialmente quel parametro, non usare il diaframma e non usare i valori delle ISO. Non mi soffravano più di tanto su questa funzione perché comunque basta leggere il manuale della fotocamera è facilmente impostabile. Approfondiamo invece il concetto della multiesposizione, sempre in linea generale poi andremo a parlarne nel dettaglio nelle prossime lezioni, il fare più fotografie di una stessa scena può essere utilizzata come multiesposizione sia nelle tecniche di HDR e Digital Blending che sono le due tecniche che ti permettono appunto di ottenere la corretta esposizione attraverso la fusione di più scatti, ma possono essere fatte più fotografie senza variare l'esposizione ma cambiando per esempio la messa a fuoco e quindi ottenere un focus stacking, quindi una fotografia con una entidezza massima dove praticamente noi andiamo a mettere a fuoco ogni singolo piano in una fotografia e poi andiamo a fondere, una tecnica che poi vedremo più avanti. Oppure possono essere fatte più fotografie della stessa scena per poi andarle a fondere per ridurre il rumore digitale, nel caso dello stacking, tutte tecniche che poi andremo a vedere nel dettaglio un po' più avanti, ma è giusto per farti capire tanto il concetto delle fusioni delle immagini. Queste sono solo alcune delle tecniche che si possono utilizzare e che affronteremo comunque all'interno del corso, cioè per esempio lo star trail, la fusione notturna e tante altre. Non affronteremo però all'interno di questo corso l'HDR perché secondo me è una funzione che ormai è abbastanza superata, si possono ottenere risultati migliori con il Digital Blending e soprattutto da per esempio dei problemi con i soggetti in movimento, lasciando degli alloni all'interno delle immagini se non sono lavorati bene e poi è un processo che in automatico fa praticamente il software, quindi tu non devi fare assolutamente niente. Quindi in un software come l'HDR ti basta semplicemente attivare la funzione HDR e il risultato è praticamente fatto da solo, ci sono veramente poche regolazioni da fare. Mentre con il Digital Blending, le maschere di livello e le maschere di luminosità in Photoshop li bisogna sudare e capire bene come lavorare. Però i risultati secondo me sono migliori rispetto ad un HDR, sono molto più realistici e funzionano anche con soggetti in movimento. Ciò non toglie che anche con l'HDR si possono ottenere ottimi risultati in termini di qualità fotografica, io personalmente preferisco altre tecniche che andremo adesso a studiare. Ovviamente poi per rendere ancora più completo questo corso si può inserire l'HDR nei prossimi aggiornamenti. Ma adesso concentriamoci sulle maschere di livello, sulle fusioni di queste immagini perché come ti dicevo ci sarà da sudare ma ci diventeremo veramente tanto e soprattutto i risultati saranno veramente apprezzabili. Ci vediamo nella prossima lezione.